Allora ragazzi, ciao! Post partita di Atalanta-Fiorentina nel nuovo Galway Stadium anzitutto si entra appunto nel nuovo stadio e si gode questo stadio finito questo gattino che è stato molto bello da vedere dicono appunto io ero in Curva Nord quindi sentivo solo il tifo della Curva Nord ma comunque ha partecipato molto anche la Curva Morosini quindi per i ragazzi che giocavano in campo appunto dopo appunto hanno espresso il piacere ma anche Gasperini appunto di giocare in questo stadio la partita non è cominciata bene comunque noi diciamo che durante l'inizio della partita non carburiamo subito almeno questo si sta vedendo nelle prime partite di campionato come lo era mi sembra un paio di anni fa quindi un po' le squadre approfittano di questo nonostante Cutto abbiamo avuto secondo me dei problemi in difesa Ian che non era al massimo della forma quindi appunto a parte che ha perso Kinn nel secondo gol poi ha avuto una munizione appunto Gasperini ha dichiarato che per scelta tecnica e anche per la munizione ma penso più che scelta tecnica abbia preferito appunto arretrare Deron e mettere appunto nel secondo tempo Brescianini che tra l'altro ha fatto molto bene quindi abbiamo preso il primo gol diciamo un contrasto io dico che il nostro portiere carne secca non ha colpa né nel primo né nel secondo quindi perché sul primo appunto c'è stato su un calcio d'angolo questo gol tap in praticamente davanti alla porta e il secondo invece proprio Kinn è rimasto lì da solo davanti al portiere non ha potuto fare altro che buttarla dentro prima del 2 a 1 appunto è stato il pareggio da parte di Reteghi con un gran gol Klukman che rientra e fa una bellissima partita appunto player of the match come ha messo appunto qua sopra ha giocato una bellissima partita appunto il primo gol il primo è stato un assist con un Reteghi grandissimo di testa veramente bravo e visto tutti i cross che facciamo da non solo quest'anno ma da diverso tempo sarà importante appunto avere uno che è bravo di testa come Reteghi infatti siamo al quarto gol di cui uno sovesse un rigore gli altri 3 di testa poi il pareggio da parte di De Ketelare che secondo me ha fatto una buona partita non eccezionale ma comunque ha fatto degli buoni spunti ha perso ma comunque nel complesso io direi molto buona 6,5 o 7 può fare di più però sinceramente sinceramente ha fatto una buonissima partita e soprattutto ha fatto questo gol sempre di testa lo faceva anche l'anno scorso e quindi ha portato il pareggio e subito dopo Lukman che si prende una palla e non la molla finché non la porta in porta Gasperini dice appunto che l'attacco gli è piaciuto molto che appunto richiama forse manca Scamacca perché non c'era Reteghi richiama appunto l'attacco che ha vinto la finale di Europa League quindi gli è piaciuto spera anche dei rientri degli altri perché comunque avremo da affrontare la Champions League subito appunto giovedì secondo tempo entra appunto Brescianini comunque abbiamo avuto subito un'occasionissima di Bellanova che sfiora il palo e poi diverse azioni da parte dell'Atalanta che non ha mollato e voleva appunto chiudere il risultato non è venuto per fortuna abbiamo anzi per fortuna diciamo che l'Aglia Fiorentina non si è vista noi abbiamo in curva Nord non abbiamo visto pochissimo davanti è successo tutto dall'altra parte molto meglio e abbiamo avuto diverse occasioni anche un Lukman che si è trovato due o tre volte davanti alla porta e si perdona sicuramente dopo una partita del genere abbiamo avuto delle occasioni buonissime per chiudere decisamente questa partita quindi bravissimi ragazzi bravissimo il tifo Lukman che elogia il tifo e che è sempre bello giocare di fronte a questo tifo io dico perché è esitato giustamente però comunque per la carriera di tutti diciamo che quando ci si presentano delle occasioni uno vuole sfruttarle gli si perdona il fatto che Paris Saint Germain aveva un po' strombettato da qualche parte e quindi anche lui voleva avere la possibilità comunque di andare in un grande club non lo so adesso io non capisco perché per soldi o per o meno soldi dico che con Miners è andata a finire in una squadra adesso vedremo la nuova Champions League che partirà subito in settimana subito la Juventus mi sembra che sia la prima che giochi alle 18.45 di martedì però io ho visto ieri un Miners che è isolato la bravura c'è sicuramente ma è isolato in una squadra che attualmente non mi sembra un granché e vedremo se Tiago Motta farà i miracoli questo per quanto riguarda la Juve quindi noi ci godiamo adesso questi tre punti e ci riportiamo come cartellino da visita su un Arsenal che vince 1-0 adesso mi guarderò un po' gli highlights nel caso degli Spurs in questo derby molto sentito in Inghilterra quindi anche loro arriveranno in un certo modo Odegaard non so se ha giocato o meno speriamo che non sia della partita ma personalmente perché è forte ovviamente meno sono forti questi e meno e meno ne è per noi che ci stiamo sistemando secondo me piano piano arriveremo a un buon punto la squadra secondo me molto valida e lo vedremo appunto questo mese che è importante da giocare sia in Europa che in campionato finito appunto chiudo riguardando appunto poi gli altri risultati Torino-Lecce io vedo un po' su YouTube che non vogliono il Torino davanti ma secondo me ieri Lecce ha avuto un sacco di occasioni con questo centro avanti che adesso non ricordo il nome quindi secondo me il Torino è più rischiato di perderla che di vincerla nonostante tutto alcuni appunto sui social dicono che che non vogliono il Torino davanti ma non ne sono assolutamente d'accordo chiude Napoli con un Cagliari che ho visto per 70 minuti un Cagliari che ha avuto diverse occasioni dopo 70 minuti era ora di cena non l'ho guardato poi ha preso tre gol anzi due gol così dopo l'ultimo vabbè al recupero quindi un 4-0 che direi non non credo che rispecchi la partita almeno fino al settantesimo poi dopo non so cos'è successo l'hanno praticamente dominata da questo dal risultato perché uno se lo guarda dice ma il Napoli ingiocabile ma secondo me invece il Cagliari ha fatto la sua partita fino a un certo punto dopo probabilmente ha mollato non so per che motivi comunque io guardo l'Atalanta ultimo Monza Inter che è stato un po' soporifera fino a un certo punto dopodiché è arrivato il gol del Monza e voglio appunto parlare di questo Monza Inter perché poi arriva un gol dell'Inter che non solo lo ritengono vanno a vedere il fuorigioco onside eccetera ma c'è un fuorigioco attivo evidente senza guardare neanche neanche il il VAR fuorigioco attivo prima del gol dell'Inter ce n'è uno davanti alla porta che è fuorigioco sicuramente attivo prima che dopo arrivi a Dunfrins che segna questo è il modo di giudicare poi appunto alla fine praticamente Pessina si trova davanti alla porta e l'arbitro fischia un fallo precedente sono piccole cose che però in un campionato del genere dove ci sono quadre che non sono per niente facili dall'ultima in classifica che attualmente è il Como ma secondo me non ci rimarrà molto ma alla metà all'inizio comunque sono tutte squadre da affrontare sono difficili si vincerà sempre con risultati comunque a parte poi le fortune che ti entrano in un certo modo appunto come Napoli però sarà sempre difficile vincere ogni partita quindi questi eventi queste piccole cose fanno la differenza un Inter che attualmente viene spinta a non perdere diciamo perché alla fine la pareggiata non ha neanche vinta al di là di quello noi guardiamo al nostro e cominciamo a questa ingordigia di calcio ci vedremo in fin di spesso riparte con la Champions League la nuova Champions League siamo tutti diciamo con con l'acqua alla gola con la voglia di capire cosa succede in questo nuovo format dell'Europa ciao e buona settimana e buona settimana